Ciao a tutti, mi chiamo Opran di Palma, detta Pamela. Vivo in un paese storico di nome Artonie, qua in Valle Camonica. Oltre ad essere moglie, madre e nonna, ho lavorato come responsabile con importanti team nel mondo mondiale. Quattro anni fa sono diventata attivista nel Movimento 5 Stelle e in questo movimento ho incanalato tutta la mia indignazione e rabbia verso i vecchi partiti che hanno distrutto sia a livello nazionale che a livello locale la nostra società. Quindi ho messo il mio tempo a disposizione della comunità. Ora, con la mia candidatura alla Regione come consigliera, intendo proseguire la mia e la vostra battaglia direttamente dentro le istituzioni. Mi occuperò del nostro territorio facendo da portavoce per i problemi di tutti i cittadini. Arrivederle Stelle. Grazie.